mi trovo ancora una volta a bordo della opel crossland degli amici del gruppo marino che ce l'hanno prestata per qualche giorno per portarvi un po alla scoperta di questo crossover che ci ricorda un po il mondo dei monovolume di qualche anno fa ma che comunque ricco di tanta praticità nonostante appunto l'anima quasi da SUV urbano ma in questo video qui inoltre nelle schede chiaramente trovate il test drive ma in questo precisamente ci focalizzeremo sul sistema infotainment di questa vettura non esitiamo ancora prima però di scoprirlo voglio mostrarvi un po cosa c'è davanti ai miei occhi perché non abbiamo un virtual cockpit chiamatelo come vi pare quanto più che altro un piccolo display e tramite questa piccola leva possiamo andare un po a visionare le informazioni del trip abbiamo innanzitutto l'autonomia non temete a breve andrò a fare benzina in più abbiamo informazioni di media per quanto riguarda il viaggio appunto il trip la bussola e la localizzazione attuale e infine il tachimetro in digitale sul volante abbiamo pulsanti dedicati al cruise control al limitatore e al setting di queste funzionalità sulla destra invece abbiamo i controlli della radio delle chiamate del controllo vocale in generale di tutti i media in basso qui c'è la leva del cambio abbiamo i controlli del clima e ancora una volta altri pulsanti dedicati agli adas e in generale qui tutti quei sistemi di assistenza che ci aiutano nella vita quotidiana sensori di parcheggio start and stop off sotto il mio telefono come potete vedere abbiamo piattaforma per ricarica wireless una 12 volt due prese usb di cui una ci dà l'opportunità di scoprire la connettività di android auto ed apple carplay ma scopriamo l'infotainment in primis abbiamo a forma di u incorniciato in gloss black lo schermo touch screen sotto diversi pulsanti ovviamente abbiamo la zard lo sblocco porte ma quelli dedicati all'infotelematica sono questi sette il pulsante per mettere in muto o per riattivare il volume con il rotore audio navigazione telefono settings le app e la vettura prima di iniziare ragazzi vi faccio un po vedere questo layout dello schermo in basso abbiamo la riga dedicata un po alla alle opzioni a tutti quanti i settaggi in alto temperatura esterna 33 gradi fa veramente caldissimo per essere a maggio centro notifiche con l'accesso anche ai dati di servizi ma ci torneremo fra un po in questo momento non siamo attivati le opzioni e l'orario ma prima di iniziare cuffie sparate beh è una goduria fino ad ora ho resistito a mettere le mie ditate infami su questo schermo ma adesso è il caso un po di scoprire questo sistema infotainment come detto qui in alto abbiamo il centro notifiche il pulsante per le opzioni di questo infotainment le scopriamo subito abbiamo impostazioni audio con il profilo quindi dell'egualizzatore secondo l'utilizzatore classica jazz blues pop rock techno vocale abbiamo la loudness attivabile per avere più chiarezza del suono la regolazione di bassi medi e alti la ripartizione all'interno dell'abitacolo torniamo a ricentrarlo il suono i suoni del touch attivi vi consiglio di tenerli attivi dato che quest'auto non ha un feedback aptico per lo schermo e quindi avendo un suono sappiamo sempre su cosa stiamo cliccando senza dover dissogliere lo sguardo dalla strada abbiamo la regolazione attiva per il volume in funzione della velocità impostazioni relative alla voce lettura dei messaggi enunciazione del nome del chiamante ritorno del riconoscimento vocale e messaggi di guida e infine le suonerie tipico di psa questa suoneria della vettura possiamo disattivare i profili sceglierne uno due o tre il profilo ci dà accesso in questo caso lo stiamo caricando ce lo dice in spagnolo perché l'auto è nuovissima appunto ci dà un po accesso alla alle varie pari ai vari parametri che si possono scegliere in questa vettura nel frattempo vi ho un po mostrato come si cambia la lingua ma ci torniamo a brevissimo con questo pulsante possiamo spegnere lo schermo e toccando ancora una volta riattivarlo per magari non disturbare il passeggero di notte andando all'opzione abbiamo i parametri del sistema con le unità di misura quindi miles per gallon per miglia chilometri e litri su chilometri litri su 100 chilometri e temperatura con fare netto celsius possiamo ritornare ai parametri di fabbrica e avere le informazioni del sistema con il pulsante consultare ma diciamo che attualmente non ci interessa e torniamo indietro ecco appunto ce l'aveva caricato andiamo su lingue queste sono tutte le lingue divise anche per continenti regolazione di ora e data per la data nel formato giorno mese anno giorno punto mese punto anno anno mese giorno o mese giorno e anno per l'orario abbiamo l'ora automatica con il gps l'ora legale e il formato dell'ora 12 24 ore diamo ok configurazione display lo scorrimento automatico del testo e la luminosità dello schermo attualmente lo voglio lasciare al massimo per permettervi una miglior chiarezza di lettura mentre ve ne parlo e infine parametraggio di profili possiamo aggiungere un'immagine un nome e scegliere anche un profilo comune magari per tutti i membri del nucleo familiare che possiede questa vettura in alto con questa rotella abbiamo appunto accesso alle impostazioni e qui abbiamo i dati dei servizi ve l'avevo promesso che ci saremmo ritornati quest'auto può essere connessa attualmente non è disponibile possiamo attivare anche delle periferiche usb o il bluetooth andiamo però su audio in audio abbiamo le opzioni con la lista delle stazioni radio fm dub am e anche la memoria possiamo cercare le singole frequenze con un tastierino i file musicali se ne abbiamo salvati in questa vettura magari con una periferica ce li divide per album artisti genere playlist e dossier le regolazioni della radio ricarica la ricerca della stazione fm o dub la visualizzazione del radio text e anche gli annunci per traffico attualità meteo sport flash speciali o info riguardanti la finanza la gestione foto ci dà accesso appunto alle foto magari su una pendrive che abbiamo collegato e le impostazioni dell'audio sono le stesse che abbiamo visto prima nelle impostazioni generali della vettura in memoria abbiamo le stazioni radio memorizzate su frequenza torniamo nella finestra principale che ci dà l'immagine il nome della stazione radio la frequenza il tipo quindi fm in questo caso i conduttori e il nome del programma nello specifico in chiaramente poi tornando su frequenza abbiamo accesso ad uno slider o a delle freccette per tornare avanti o indietro in banda abbiamo appunto come vedete la banda delle radio e la lista delle stazioni radio disponibili in questo caso non della m magari quindi torniamo sulla sulla stazione radio in fm ecco con banda torniamo sulla radio fm dub e in modalità abbiamo accesso a radio usb e bluetooth che attualmente non sono accesi apple carplay perché il mio smartphone iphone collegato a questa vettura andiamo a navigatore in navigatore abbiamo accesso appunto la mappa la cartografia il sistema di navigazione di questa vettura funzionalità pinch to zoom in questo momento siamo in modalità auto quindi con lo zoom abbiamo un pulsante di ricerca con un tastierino specifico per indirizzo per punti di interesse e inoltre anche una lista torniamo indietro impostazioni della mappa che ci mostra stazioni parcheggi traffico il colore della mappa lo mettiamo in modalità giorno per mostrarlo in maniera più chiara i punti di interesse sulla mappa sono diversi ce ne sono tantissimi e li divide anche per categorie e anche la consultazione della mappa possiamo vedere la mappa con il nord puntato in alto con la freccetta con la direzione della nostra vettura sempre puntata in alto una visuale a volo d'uccello quindi quasi in 3d e tornare in 2d con il nord puntato in alto ma a noi piace in 3d qui abbiamo il più e il meno per andare a zoomare e su un menu abbiamo accesso a tante impostazioni l'inserimento di un indirizzo con la tastiera le mie destinazioni quindi casa o lavoro o secondo le destinazioni recenti o i contatti della rubrica salvati i punti di interesse che abbiamo visto prima una ricerca che può essere anche qui per centro di interesse o per indirizzo i criteri di guida abbiamo un percorso veloce breve un compromesso tra i tre o ecologico autostrada on e off pedaggio ne off traghetti on e off presa in conto del traffico possiamo avere l'automatica manuale o disattivata torniamo indietro itinerari e tappe se abbiamo più tappe durante l'arco del nostro percorso possiamo selezionarle in base alla ricerca e le regolazioni del navigatore regolazioni relative all'aspetto quindi 2d 2d orientata nel senso di marcia in prospettiva gli edifici in 3d guardate che belli anche il suolo in 3d lasciamo tutto attivo la regolazione automatica dello zoom le regolazioni della mappa ci permettono di avere un raggiungimento a piedi della destinazione finale o anche autorizzare l'invio di informazioni in allarmi abbiamo gli avvisi per quanto riguarda un parcheggio in prossimità la stazione di servizio quando l'auto entra praticamente in riserva di carburante e l'avvertimento di due punti di interesse personalizzati in voce abbiamo l'attivazione dei messaggi di guida e il pronunciamento dei nomi delle strade infine cartografia ci dà le informazioni della cartografia disponibile in questo in questo caso appunto l'europa in telefono non lo vedremo adesso perché si attualmente sono collegato con apple car play ma non voglio spoilerarvi altro nel prossimo video vi parlerò di come collegare il telefono via bluetooth e anche con apple car play questo è il pulsante centrale di cui vi ho parlato prima abbiamo anche un accesso rapido alla radio con le sezioni disponibili andiamo su set che abbiamo già visto praticamente con le impostazioni generali di questo sistema infotainment qui nelle app abbiamo l'accesso alle app connesse ad apple car play e ad android auto e infine in regolazione del veicolo possiamo avere accesso al settaggio dei fari quindi l'accensione temporizzata vediamo un po con questa ghiera questa rotella ci dà accesso ad un'accensione temporizzata per 15 30 o 60 secondi l'illuminazione d'accoglienza idem qualora fosse attivata inoltre abbiamo in comfort l'illuminazione d'ambiente attiva al massimo o al minimo da 0 a 6 lasciamola al massimo e il 3g cristallo posteriore per retromarcia che si attiva quando inseriamo appunto la retro in caso di pioggia l'accesso al veicolo abbiamo lo sbloccaggio solo del guidatore e del suolo bagagliaio con la pressione degli specifici pulsanti e infine in sicurezza abbiamo l'attivazione dell'allarme di stanchezza del guidatore che ci consiglia in base a dei segnali universali quando è il caso di prenderci una pausa e anche la visualizzazione della velocità consigliata questa quindi era la tecnologia di bordo della opel crossland 2021 ora vi chiedo di farci sapere i vostri commenti qui sotto nell'apposita sezione lasciateci un like se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale cliccate sul campanello per non perdervi tutti i prossimi contenuti leggete l'articolo completo perché ve lo consiglio di cuore sul nostro sito we drive.tv e infine restate aggiornati su tutte le nostre piattaforme social cercando ancora una volta we drive.tv e infine restate aggiornati su tutte le nostre piattaforme